ciao a tutti e bentornati sul mio canale ti do il benvenuto se la prima volta che passi di qua in questo brevissimo video voglio semplicemente dare il bentornato ad una mia rubrica anche se ormai se mi seguite negli ultimi video vi ho detto che non voglio parlare di rubriche quanto più di argomenti a rotazione ma questa era una rubrica a cui tenevo tantissimo fino a qualche tempo fa e c'è il mio amato conscious coffee talk anzi il nostro amato conscious coffee talk se non sapete di cosa stia parlando perché magari siete arrivati da poco nel mio canale vi lascio qui la presentazione del conscious coffee talk e la novità sarà semplicemente quella che appunto una volta al mese pubblicherò un video di conscious coffee talk e lo allaccerò al podcast ovvero una tazza di self help era da tanto tempo che volevo unire le due cose l'avevo sperimentato però poi ho lasciato da parte il tutto quindi potrete vedermi sia appunto tramite video oppure sia ascoltarmi sul podcast il link per il podcast ve lo lascio in descrizione e nei commenti altre novità che ci saranno rispetto ai conscious coffee talk di prima e che avrò seguirò diciamo di più una linea guida per quanto riguarda gli argomenti dei coffee talk quello che ci sarà sempre con me sarà la mia tazza di caffè o di bevanda che dovrete avere anche voi perché questi video saranno proprio così semplicemente dei video parlati ma dico semplicemente ma saranno video profondi nel senso che parlerò prevalentemente di crescita personale anzi specificatamente parlerò di quello saranno tutti i video inerenti alla crescita all'evoluzione diciamo che prima erano video più miscellaneus se mi lasciate passare il termine sempre sì con un'ottica di evoluzione ma adesso voglio essere un po più andare un po più sul concreto voglio sviluppare più una linea guida vi dicevo che parta dai sentimenti da quello che proviamo dalle emozioni quotidiane voglio partire dalle basi e secondo me per partire dalle basi nella crescita personale è necessario fare dei video del genere quindi nel mio canale ovviamente non mancheranno mai i blog i video un po più motivazionali se così vogliamo definirli ma secondo me è necessario per un canale come il mio degli argomenti che voglio portare è necessario avere anche un video al mese almeno in cui io mi siedo qui e vi parli semplicemente in questo modo quindi è qualcosa che si può effettivamente anche solo ascoltare tramite il podcast per cui questi Conscious Coffee Talk partiranno il prossimo mese questo è semplicemente un video di presentazione o di ripresentazione riassumendo saranno video assolutamente adatti a chi si è già affacciato al campo della crescita personale magari in questo momento sia un po smarrito oppure ha bisogno che le sue basi siano un po più solide e soprattutto ovviamente adatto anche alle persone che si stanno affacciando che si vogliono affacciare a questo mondo inizierò a darvi le basi solide quello che mi sono resa conto forse non ho mai portato effettivamente nel mio canale ed è stato per me l'inizio in generale nella mia vita perché qualche tempo fa mi sono ritrovata a riflettere a pensare al momento in cui ho iniziato il mio percorso di evoluzione personale al momento in cui ho toccato il fondo cosa mi ha aiutato all'inizio per superare quel momento proprio le basi le basi quali sono state e ho capito che effettivamente io non vi ho mai portato quella prima parte che mi ha aiutato quindi diciamo che un po e oltre che dei conscious coffee talk sarà una mia guida per tutto il 2024 riportare un po quelle basi che mi hanno aiutata e approfondendo il tutto appunto attraverso questi video sono arrivata a questo pensando proprio alla me del passato alla me dell'inizio alla me all'inizio del mio percorso di scoperta e di e di rinascita io voglio prendervi la mano accompagnare anche voi in questo percorso che può aprirvi porte straordinarie con me lo ha fatto perché in questi anni ho fatto delle cose che non avrei mai pensato di fare ho raggiunto dei traguardi che poi quando ti fermi non ci pensi no anzi ci pensi quando ti fermi ma nella quotidianità nel fare di tutti i giorni magari non ci pensi però sono tante cose che se non mi fossi affacciata a questo mondo a questo modo di consapevolezza di crescita di evoluzione continua e costante difficilmente avrei raggiunto quindi cheers bentornati e benvenuti a conscious coffee talk e al mio podcast una tazza di self help un bacio a tutti e come sempre ricordate che se state guardando la luna la sto guardando anche io a prestissimo a presto a presto a presto Grazie.